Allora Aldo, te non ti intervista mai nessuno, ma questo è il tuo momento. Fortuna, non mi intervista mai nessuno. Allora, com'è la condizione delle ragazze? Beh, al momento direi più che buona. Speriamo che continui così. Se va così direi che va molto molto bene. Adesso abbiamo, domani rientriamo, non so ancora se c'è allenamento o meno. Sì che le ragazze hanno un giorno in più per riposare. Poi sabato facciamo allenamento il mattino. Domenica spero che sia, spero che sia una partita tranquilla. Vediamo un po' di recuperare un po' le forze che giochino tutte. Così anche quelle un po' in difetto possono sicuramente recuperare meglio.